Bentornati nel salotto di Asteria Space per una nuova puntata della rubrica L'ora dell'arte. Oggi prenderemo una tazza di tè insieme a Gianluigi Belsito, regista e attore pugliese. Grazie a tutti. Ha usato una nuova produzione teatrale del Teatro del Viaggio, di cui Gianluigi è regista e anche interprete. Hotel Dorian Gray, ispirato al celebre romanzo di Oscar Wilde. Come mai, Gianluigi, hai scelto proprio questo testo e quale chiave di lettura ne hai dato? Dunque, sai, quando si fa teatro ci sono dei testi che tu vuoi sempre mettere in scena ed è un romanzo, quello che è proprio il ritratto di Dorian Gray e Oscar Wilde in particolare di cui già avevo messo in scena delle favole, per la verità, che da tempo volevo mettere in scena e ho approfittato del fatto che comunque da un anno è nata la collaborazione con un musicista e cantante oltre che attore che è Raffaele D'Ercole, che è il leader dei sottosuono, comunque lavora con me proprio come attore a tutto tondo, artista a tutto tondo. Abbiamo messo a punto questo che abbiamo definito un teatro concerto, perché è una formula molto particolare su cui sto lavorando da un paio d'anni a questa parte, che mette insieme il teatro, un testo teatrale, quindi una drammaturgia con quella che è una produzione musicale originale, nel senso che noi ricorriamo proprio alla musica pop e al rock italiano internazionale, canzoni, brani di autori e interpreti conosciuti che vengono adattati e inseriti nei nostri spettacoli. L'anno scorso abbiamo fatto le relazioni pericolose dal romanzo di Laclos, un romanzo del Settecento molto particolare e quest'anno Dorian Gray con tutto quello che ne deriva perché siamo scesi proprio a scandagliare l'animo umano, tanto è vero che l'abbiamo paragonato, poi abbiamo voluto fare un'operazione piuttosto colta ma sempre accessibile comunque, messo a paragone con il Faust di Christopher Marlowe. Entrambi in un certo senso vendono l'anima al diavolo. Uno spettacolo che si contraddistingue per una scena non convenzionale, infatti Hotel Dorian Gray propone una scena molto particolare con differenti palchi su cui si alternano i vari attori e le varie scene. Questo è un aspetto che contraddistingue un po' tutti gli spettacoli del Teatro del Viaggio, la compagnia diretta da Gianluigi Belsito. Infatti Teatro del Viaggio sottolinea proprio una tipologia di teatro itinerante. Quali sono, Gianluigi, i luoghi che prediligi per i tuoi spettacoli e come li selezioni? Dunque, Dorian Gray, Teatro del Viaggio, mi sono avvalso della collaborazione del Rotary Club di Biscegli e della nuova Accademia Orfeo. L'impostazione è stata molto particolare perché io amo gli spazi non convenzionali e creare poi a sua volta degli spazi non convenzionali. Dorian Gray si svolge su tre palchi, tre palchetti collegati da passerelle, con il pubblico posto su entrambi i lati, a destra e a sinistra, come se fosse una passerella d'alta moda. e perché appunto sono molto colpito dall'impostazione scenica, dai luoghi. Io lavoro molto nei castelli, ad esempio, nei castelli di Tranni, Gioia del Colle, di Bari, al Castel del Monte, dove metto in scena degli spettacoli itineranti. C'è uno ispirato proprio a Federico II, che è uno spettacolo storico in costume, di cui ho anche la versione in inglese, la facciamo per i tour operator internazionali e ce l'abbiamo da diversi anni, questo spettacolo. Poi anche c'è un amleto, lavoro anche nei parchi archeologici, dove metto in scena spettacoli legati al mito, oppure c'è una cosa anche su Dante Alighieri. Mi faccio ispirare dai luoghi. Io entro in un luogo e proprio i luoghi storici, architettonicamente parlando, proprio mi ispirano, mi suggeriscono il testo da mettere in scena. Sì, molto legato alla mitologia classica, greca e non solo. Quali sono e se ci sono dei tuoi miti preferiti? Dunque, io da qualche anno metto in scena, in alcuni contesti, che sono i boschi, i parchi naturali, un mito legato, anzi due miti, legati alle metamorfosi, sia quelle di Ovidio che quelle di Apuleio. Quindi il mito di Narciso, la bellezza per eccellenza, che ricorda anche, adesso che ci sto pensando, anche un po' Dorian Gray, il mito di Narciso. E quello di amore psiche, che sempre con modalità itinerante metto in scena in questi contesti particolari. Oppure nel parco archeologico di Canosa, in particolare, negli Ipogei e nella Domus Romana, c'è una teatralizzazione sempre itinerante legata a Dante, la discesa nell'Inferi, si chiamano proprio i viaggiatori nell'Ade. Dante Enea, che scende nell'Ade per cercare l'anima di suo padre e trova Didone, che è la regina che si è uccisa a causa sua proprio. E poi c'è il mito di Orfeo ed Euridice. Sono delle cose particolari ispirate sempre dai luoghi che vado a visitare. Anche la musica gioca un ruolo molto importante nei tuoi spettacoli. Quali sono, insomma, i tuoi parametri di riferimento a livello nazionale, anche internazionale, della musica? Allora, non posso che ritornare al Dorian Gray, perché con Raffaele D'Ercole, che è il direttore musicale, abbiamo messo a punto proprio una colonna sonora che è molto particolare. Lui è proprio specializzato come cantante nel Brit Rock, e quindi dai Depeche Mode, dai Queen, c'è un brano di Robbie Williams, però anche qualcosa di italiano. Ad esempio c'è un momento molto particolare, quasi kitsch, con Splendido Splendente Direttore, per esempio. Oppure c'è un brano di Mina, uno di Renato Zero, e addirittura c'è una coreografia che è Vogue di Madonna. Mi piace proprio mischiare, non essere legato a un genere particolare, e quindi viene fuori poi uno spettacolo eclettico che coinvolge molto il pubblico, perché ognuno si identifica in un brano, in qualche artista preferito, e quindi il pubblico ama quello che facciamo, perché poi, in un certo senso, a tutto tondo offriamo un range di brani musicali che non possono non piacere. E per concludere, quali programmi hai in serbo, insomma, per i tuoi spettacoli, per l'Hotel Dorian Gray e anche per gli altri? Tu e Dorian Gray sicuramente faremo un'estiva, adesso ci stiamo organizzando proprio per una piccola tournée estiva, anche grande tournée estiva se vogliamo, e poi c'è anche una cosa che farò a giugno, e cioè il Federico II in inglese, per una nave da crociera, quindi per dei croceristi americani che verranno nel Norbarese, dal Castel del Monte a Corato, tutti i luoghi comunque legati a Federico II, dal Castel del Monte in particolare, e poi c'è un lavoro su Dante, che sto cominciando a pensare, essendo il prossimo anno l'anno dantesco, proprio legato a Dante, all'anniversario di Dante. Bene, ringraziamo Gianluigi Belsito per essere stato con noi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata della rubrica L'ora dell'arte. Grazie a tutti.